Importanti problemi personali e familiari alla base delle dimissioni dell'amministratore unico dello zuccherificio, Francesco Fusco, una scelta comunicata all'Assemblea dei Soci negli ultimi giorni della campagna 2014, il tempo della durata dell'incarico ricevuto a metà luglio dopo le dimissioni del suo predecessore, Alberto Alfieri. Nella lettera inviata ai lavoratori, Fusco ha ribadito che la decisione è di tipo personale, nulla a che fare con la continuità aziendale che, ha spiegato, resta salda nelle mani di chi riceverà la nuova nomina dell'amministratore della SPA. Ora il futuro dello zuccherificio, in una fase molto delicata, preoccupa non poco i lavoratori e l'intero indotto legato all'impianto di contrada per Azzeto, dove in quasi due mesi sono state conferite 280.000 tonnellate di barbabietole. Oltre allo spegnimento della fabbrica, affermato Antonio Dilisio, RSU della Flai CGL, bisogna fissare i paletti per la prossima campagna. Quindi, ha osservato, serve un gruppo di lavoro capace, deciso e propositivo, come quello che ha condotto in pochi mesi questa grande sfida. I rappresentanti dei lavoratori hanno già chiesto un incontro urgente alla regione e alla dirigenza della società per fare chiarezza sulle semine autunnali e sul programma di manutenzione della campagna 2015. L'auspicio, concluso Dilisio, è di individuare a breve il nuovo amministratore unico, continuando a chiedere a tutta la filiera di fare squadra per il futuro.